Situazione Forni, questo è un campo di due ettari, olivi, campo di sotto, piante entiere, portate via. Invece fammi questa qui è la situazione che è qua giù dove hanno fatto le piantine perché non ti puoi rendere conto di come scorre l'acqua. Volevo andare a vedere se c'erano sempre i trattori ma non ci arriva, è tutto un lago, naturalmente ha buttato giù anche la rete. Capito? 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 Capita? Capita? Grazie. E delle piante sono sopra il ponte di questa notte l'acqua passata sopra il ponte. Grazie. Grazie.